Benvenuti amici, siamo qui oggi per parlare di Adobe Dimensions, un applicativo della suite Adobe di cui non vi ho ancora mai parlato. Un programma che come vedremo serve a gestire degli elementi 3D, anche se non li crea. Nel senso che è necessario avere delle modellazioni 3D che possiamo scaricare da Adobe Stock o da altre fonti. All'interno di questo software potremo gestirle e collocarle in un ambiente bidimensionale. Andiamo a incominciare, cominciamo lanciando l'applicativo. Nel momento in cui lanciamo l'applicativo vediamo che ci si apre la solita finestra di Adobe a cui siamo ben abituati e qui possiamo scegliere crea nuovo documento, cosa che vado prontamente a fare. Nel momento in cui creiamo un nuovo documento la situazione che ci troviamo è questa. Ora non so se abbiamo tutti la stessa impressione, però io guardando a questo documento la prima cosa che noto è che è piccolo. Nel senso che è 1024x768 che è una dimensione ragguardevole tutto sommato, però è piccola per il mio monitor ed è piccola in generale, è piccola anche per il web. E lo stiamo vedendo a 140%. A questa cosa a me non piace, per cui la prima cosa da fare è andare al 100%. La seconda cosa da fare, qui abbiamo lo strumento sposta che ci ricordiamo dai vari applicativi di Adobe e qui dentro abbiamo una serie di varianti. Abbiamo lo strumento selezione V che è il vecchio strumento sposta. Abbiamo il nuovo strumento sposta che funziona esattamente come il vecchio ma si richiama col pulsante da tastiera E. Abbiamo lo strumento ruota che è R e abbiamo lo strumento scala che è S. Sono tutti abbastanza intuitivi, tranne questo che Move l'hanno messo con la E. Adesso a noi serve lo strumento Scale. Andiamo a cliccare sul numerino e avendo cliccato sul numerino vedete che si evidenzia un box e adesso noi possiamo andare a ingrandire il nostro quadro. Lo stiamo vedendo al 100% per cui la modifica che stiamo facendo è effettiva. Io tengo premuto Alt Option in modo tale da ridimensionare tenendo fisso il punto centrale. Adesso che lo vediamo bello grande possiamo tornare sul nostro strumento sposta. Possiamo cliccare esternamente così vediamo che abbiamo una finestra ben definita. Adesso abbiamo un documento che ci piace perché è bello grande e riempie bene tutto il monitor. Cominciamo a familiarizzare con gli strumenti. Come abbiamo già visto qui abbiamo una serie di strumenti sposta che fanno cose differenti. Abbiamo uno strumento selezione che seleziona gli oggetti. Abbiamo uno strumento sposta che serve a spostarli. Uno strumento ruota che serve a ruotarli. E uno strumento ridimensiona che serve a scalare i nostri oggetti. Vedremo più tardi bene che cosa fanno tutti questi strumenti. Subito dopo abbiamo uno strumento bacchetta magica che funziona in maniera molto simile alla vecchia bacchetta magica di Photoshop. Abbiamo un eyedropper. Abbiamo una serie di strumenti che adesso andiamo a vedere più nello specifico. Vediamo come funziona questo applicativo. In particolare andiamo a vedere quali sono gli oggetti preimpostati che possiamo caricare. Perché qui c'è una serie come potete vedere di forme 3D precaricate all'interno dell'applicativo. di cui noi possiamo disporre e a cui possiamo abbinare delle texture e dei materiali. Questa è una cosa molto interessante. Noi abbiamo qui tutta una serie di materiali che possiamo abbinare ai nostri oggetti 3D. Andiamo a vedere in che modo. Clicchiamo su un cubo. Un cubo standard. E andiamo a prendere il nostro strumento scala. Con il nostro strumento scala noi rimpiccioliamo questo cubo. Scrollando con la rotella del mouse possiamo zoomare indietro. Quindi stiamo gestendo la nostra camera. Abbiamo scalato il nostro oggetto. Vediamo che qui c'è una rappresentazione 3D dell'oggetto. In questo caso noi possiamo gestire la trasformazione sugli assi. Quindi possiamo decidere di gestire solo un asse o solo l'altro asse. O di nuovo possiamo decidere di gestire soltanto la circonferenza. Oppure possiamo decidere di gestire due di questi aspetti insieme. Quindi se andiamo a selezionare il punto mediano gestiamo due di questi aspetti contemporaneamente. Oppure se andiamo a selezionare il punto centrale possiamo spostare il nostro oggetto. Ora lo teniamo in questo modo perché così lo vediamo bene. Adesso possiamo renderci conto di quello che possiamo fare con questi strumenti. Il primo strumento serve a selezionare un oggetto. Quindi nel momento in cui lo seleziono lo posso prendere e spostare. Proprio come siamo abituati nei vecchi applicativi della serie Adobe. Siamo abituati a gestire gli oggetti in questa maniera. In questo caso vediamo che possiamo anche ruotarlo. Qui abbiamo una serie di assi per cui possiamo ruotare il nostro oggetto. E vediamo che in questo caso sprofonda sul nostro piano perché sta appoggiato sul piano e quindi sprofonda. Ma quello che mi interessa adesso è farvi vedere che lo possiamo ruotare. In questo caso ovviamente ruotando sul piano l'oggetto non sprofonda perché si muove esattamente sul piano. Andiamo a vedere che cosa succede se applichiamo un materiale a questo oggetto. Quindi andiamo a selezionare il nostro oggetto e clicchiamo semplicemente vetro. Vediamo che il nostro oggetto è diventato di vetro. Quello che il nostro software crede essere la sfumatura più vicina possibile al vetro. Queste sfumature sono fatte bene. Tuttavia noi possiamo crearcene di nostre o scaricarne delle altre da siti come Adobe Stock che ha delle risorse ottimizzate proprio per questo applicativo. Quindi quelle che vi sto facendo vedere io sono semplicemente le preimpostate. Vi assicuro che non sono male. Gestire oggetti 3D con questa rapidità e con queste texture non è per niente male. Tuttavia se vogliamo personalizzare ulteriormente il nostro workflow è possibile integrare risorse anche da siti di terze parti. Io consiglio ovviamente Adobe Stock perché troveremo delle risorse che sono già ottimizzate per questo programma. Quindi non ci creeranno il minimo problema e saranno facili da importare e da gestire. Notare comunque quanto il nostro oggetto sia a parer mio realistico. Perché trattandosi di un software 3D e trattandosi quindi di un software che va a creare qualcosa laddove inizialmente non c'era niente. Io trovo che sia molto realistico e molto ben fatto. È assolutamente possibile un'integrazione di queste forme in un elemento assolutamente fotografico. Quindi noi possiamo creare delle forme all'interno di Adobe Dimensions e poi posizionarle in un nostro progetto fotografico. Senza che lo spettatore si accorga pressoché di nulla a parere mio. Più nel dettaglio che cosa possiamo fare con un oggetto un pochino più complesso di un cubo. Prendiamo per esempio questo che è una sorta di lattina. Ok abbiamo qui la nostra lattina io la prendo e la sposto perché ho selezionato lo strumento selezione che mi sposta anche le cose e me le ruota anche volendo. Ma noi adesso lo lasciamo dritto. Io ora quello che faccio tengo premuto Option o Alt clicco e trascino e creo una copia del mio oggetto. Dopodiché posso spostarla nello spazio. Se tengo premuto Shift posso sollevarla. Questo è interessante. Oppure posso addirittura farla sprofondare nel piano. Ma diciamo che io adesso la sollevo e basta. E la tengo sollevata. Questo solo per farvelo vedere e per avere un raffronto. Andiamo a vedere adesso che cosa possiamo fare con lo strumento bacchetta magica. Lo strumento bacchetta magica fa una cosa simile a quella che siamo soliti vedere su Photoshop. Ovvero seleziona delle cose. Seleziona per affinità ovviamente. Nel senso che se io clicco su una superficie mi seleziona quella superficie. Quell'intera superficie così come è stata generata dal software di modellazione 3D da cui sono stati creati questi oggetti. Questi oggetti non sono stati creati all'interno di Adobe Dimensions. Vengono creati esternamente e qui vengono solamente posizionati. Quindi se vogliamo creare degli asset che vogliamo utilizzare all'interno di Dimensions non lo possiamo fare all'interno di Dimensions stesso. Dobbiamo usare degli altri programmi che non sto a spiegarvi in questa sede. Quello che adesso ci interessa è che noi possiamo con la bacchetta magica selezionare una superficie come per esempio il bordo esterno del nostro barattolo. Non l'etichetta ma solamente il bordo esterno. Nel momento in cui selezioniamo il cerchio sopra il tappo abbiamo selezionato solamente questa parte. Se io tengo premuto shift posso andare a sommare le selezioni e quindi andare a prendere più parti che vado a selezionare a seconda di un criterio che devo avere prestabilito perché una volta che le ho selezionate tutte io posso andare a dirgli che voglio per esempio cambiargli il materiale. Quindi nel momento in cui ho selezionato tutta la parte superiore del barattolo io posso scrollare andare a vedere i miei materiali e questo è un metallo probabilmente standard che è stato impostato nel momento in cui è stato generato questo oggetto. Io gli voglio dire che voglio usare il metallo di Adobe Dimensions quindi voglio andare ad applicare un materiale diverso da quello originario. Vediamo che ci pensa un attimo io adesso tolgo la selezione e vedete ci rendiamo conto sui nostri due oggetti se voglio tornare vedete che abbiamo le guide calamitate quindi tenendo sempre premuto shift se io sposto il mio barattolo viene calamitato a terra e quindi so che è perfettamente a terra. Li vediamo accostati e ci rendiamo conto che sono diverse queste due texture perché questa qui era quella originale questo qui è il metallo di Dimensions che è un pochettino più ruvido un pochino più spigoloso non sono sicuro che sia meglio forse preferivo l'originale però questo è per farvi vedere le potenzialità dello strumento. Nel momento in cui noi andiamo a selezionare un'altra parte ovvero andiamo a selezionare per esempio l'etichetta possiamo applicare all'etichetta un altro materiale andiamo un po' a vedere che cosa c'è all'interno di questa library possiamo applicare per esempio bronze andiamo a vedere ed ecco che abbiamo applicato una texture abbastanza irrealistica ma abbastanza caruccia tutto sommato alla nostra lattina. Andiamo a vedere che possiamo selezionare la parte inferiore della lattina e possiamo applicargliene un'altra ancora come per esempio questa le scelgo sgargianti giusto perché così si vede quello che sto facendo ovviamente non credo che andrò mai a fare una lavorazione di questo tipo ma lo faccio per farvi capire di che cosa stiamo parlando e vado anche a ruotare la lattina in maniera tale da farvela vedere bene. La solleviamo ecco così è appoggiata l'abbiamo ruotata semplicemente usando gli strumenti di rotazione l'abbiamo sollevata tenendo premuto shift qui c'è la guida calamitata che mi avvisa quando arrivo a contatto tic siamo a contatto col pavimento e quindi la mia lattina in questo momento è esattamente sul piano. Abbiamo modificato questa parte io potrei andare a continuare e dirgli che voglio fare qualcosa di affine anche sul fondo e se tengo premuto shift posso selezionare più pezzi e dirgli che li voglio tutti uguali. Così adesso abbiamo una bellissima lattina traforata questo è per farvi vedere quelle che sono le potenzialità dell'applicativo è un applicativo abbastanza potente tutto sommato nonostante possa sembrare un giochino a prima vista la possibilità di gestire degli oggetti 3d in uno spazio tridimensionale e poi collocarli in uno spazio bidimensionale è qualcosa che un pochino agli altri applicativi della suite adobe mancava e quindi questo è assolutamente un integrativo doveroso. Doveroso in questo momento in cui soprattutto i render per i prodotti vanno tantissimo per i vari e-commerce piuttosto che prodotti emergenti è un programma assolutamente da non sottovalutare. Non abbiamo ancora visto tutto all'interno di questa tab perché qui oltre a scegliere i materiali e eventualmente le forme su cui vogliamo lavorare abbiamo tutta una serie di opzioni possiamo anche scegliere la luce qui abbiamo una serie di opzioni che sono molto interessanti queste opzioni vanno a finire all'interno della tab environment qui abbiamo la ambiente qui abbiamo la camera da cui stiamo vedendo la scena qui abbiamo food can e food can 2 quindi abbiamo le due lattine che possiamo selezionare da qui e queste due lattine hanno l'etichetta e tutta una serie di altri parametri che possiamo vedere qui dentro. Quindi possiamo aprire la cartella e possiamo lavorare sull'etichetta e sulla lattina separatamente la cosa interessante è che noi adesso possiamo andare ad aggiungere delle luci possiamo aggiungere per esempio una di queste luci questa luce viene aggiunta e modifica la scena e noi possiamo gestirne l'intensità e possiamo gestirne le proprietà attraverso questa tab che si va aprendo. Quindi possiamo gestire la direzione della luce ruotandola intorno ai nostri oggetti questa è una cosa assolutamente notevole e possiamo gestirne l'intensità nel senso che se la portiamo a 0 la luce è assente se la portiamo a 200 la luce è completamente presente se la portiamo a 100% la luce è come dovrebbe essere originariamente. Se questa luce non ci convince la possiamo sempre cancellare e vediamo che quindi siamo andati a 0 quindi possiamo aggiungerne un'altra che si chiamerà sempre luce ambientale e che di nuovo possiamo andare a gestire quindi possiamo decidere come deve essere la nostra luce e di nuovo possiamo ruotarla e creare tutta una serie di effetti. Su questa texture si vede particolarmente bene quello che stiamo facendo perché stiamo andando a ruotare di fatto la nostra fonte luminosa intorno all'oggetto questo ci permette veramente di gestire i nostri oggetti come se ci trovassimo all'interno di uno studio fotografico. Vediamo qui in particolare che ci permette veramente di creare ogni sorta di effetti sfumature sfaccettature sui nostri oggetti è uno strumento veramente potente perché ci permette di gestire oggetti riflettenti e oggetti di metallo e di vetro in generale in maniera veramente completa. Oltre a questo ci permette anche di creare delle ombre quindi io adesso vado a cancellare nuovamente la nostra luce e riseleziono environment e gli vado a dire luce solare. Vedete che abbiamo creato un'ombra come quella della luce del sole quindi un'ombra molto netta qui nuovamente possiamo gestire i parametri quindi possiamo andare a illuminare i nostri oggetti possiamo gestire la luce globale possiamo gestire la rotazione quindi possiamo decidere da che direzione viene la luce del sole. Possiamo andare a gestire l'opacità quindi possiamo diminuire l'intensità solamente delle ombre diciamo che così ci piace perché così le ombre si vedono abbastanza bene e dopodiché possiamo anche andare ad aggiungergli un'altra luce. Quindi abbiamo due luci abbiamo una luce ambientale e una luce del sole e possiamo tornare a editare la nostra luce del sole la vedete quindi possiamo anche fare in modo che l'ombra di uno dei due oggetti vada sull'altro. Questa è una cosa assolutamente notevole possiamo anche fare questa cosa e possiamo tornare a gestire la nostra luce ambientale diminuendo nell'intensità e gestendo nella rotazione come vi ho fatto vedere prima è uno strumento veramente veramente molto versatile. Supponendo che tutto quello che abbiamo fatto ci piaccia così com'è vi sconsiglio di fare una cosa del genere perché si può fare molto meglio io adesso ci sto giocando solo per farvelo vedere. Tuttavia una volta che abbiamo raggiunto il livello di personalizzazione che ci soddisfa quello che possiamo fare è andare a integrare il nostro progetto all'interno di un'immagine bidimensionale infatti qui abbiamo una serie di immagini una serie di gradienti una serie di risorse che possiamo utilizzare per collocare questi oggetti su uno spazio. Io vado a selezionare per esempio tavolo e qui abbiamo l'opzione che è interessantissima che è match image che automaticamente andrà a cercare di integrare questi oggetti nella foto che abbiamo scelto questo ci fa risparmiare un sacco di tempo perché potenzialmente ci risparmia di doverlo fare a mano per cui andiamo a selezionare la nostra azione match image e vediamo che lui ci ragiona un attimo noi gli andiamo a dire ok e vedete che la nostra immagine 3d è stata perfettamente inquadrata automaticamente. dall'applicativo che ha posizionato i nostri oggetti in maniera tale che sembrino realistici su questo sfondo è una cosa veramente notevole e adesso noi possiamo intervenire ulteriormente nel senso che li possiamo ancora spostare e vedete le ombre come vengono gestite notate che l'ombra di questo oggetto esiste su quest'altro oggetto cioè si vede che gli sto passando davanti e che gli sto togliendo la luce è una gestione della luce assolutamente stupefacente. nel momento in cui ho posizionato i miei oggetti in questo spazio tridimensionale posso fare quello che voglio sono già allineati sul piano ovviamente posso continuare a compiere le azioni di prima ovvero posso tenere premuto shift per sollevarne uno e guardate che bello che cosa fanno le ombre. le ombre seguono esattamente l'oggetto proprio come se lo stessi sollevando davvero ovviamente è sempre calamitato quindi se lo riappoggio al piano rimane appoggiato al piano. una cosa che potrei fare per esempio a questo punto è tiltare il mio oggetto in questa maniera e poi sollevarlo lievemente. vedete che nuovamente è calamitato nel senso che l'ultima parte che tocca rimane sollevata. questo è un effetto fotografico che è abbastanza difficile da realizzare nella realtà perché nella realtà per tenere un oggetto in questo modo bisogna sostenerlo in qualche maniera quindi diventa complesso realizzare una foto di questo tipo invece all'interno di questo applicativo è incredibilmente semplice e possiamo realizzare una composizione di questo tipo veramente con un minimo sforzo. una cosa di questo tipo fotograficamente richiederebbe molta strumentazione molta tecnica e molta pazienza all'interno di questo applicativo possiamo gestirla in maniera assolutamente indolore come potete ben vedere. bene ora facciamo un bel esperimento ricominciamo da capo documento nuovo quindi andiamo a ridimensionarlo andiamo a cliccare sul numerino e quindi andiamo a lavorare su un documento grande come il nostro quadro così vediamo bene però senza andare a zoomare che zoomare a me non piace cerco di non farlo mai stiamo lavorando a 72 dpi lavorando con pixel come unità di misura perché è un progetto sostanzialmente da computer poi nel momento in cui lo esporteremo decideremo cos'altro fare adesso andiamo a selezionare un oggetto cerchiamo qualcosa di un pochino più complicato magari cerchiamo qualcosa di soddisfacente andiamo a vedere qui c'è una serie di oggetti che possiamo gestire io ne sto cercando uno complesso ma in realtà non trovo chissà cosa per cui credo che mi accontenterò di questo che tutto sommato è un oggetto bello complicato e guardatelo bene non è per niente semplice come oggetto allora io vado a selezionare il mio strumento scala vado a cliccare nel centro della figura e così lo scalo interamente poi vado a premere r e così ho lo strumento rotazione e così lo posso ruotare così lo vedo bene ora attenzione qui c'è una serie di strumenti che non abbiamo ancora visto che sono gli strumenti che gestiscono la nostra camera qui abbiamo una serie di opzioni per la nostra camera in particolare camera bookmarks adesso io clicco qui e mi salvo questa vista perché questa è la vista principale quella da cui sono partito adesso io vado a modificarla perché vado a selezionare lo strumento orbit tool che si seleziona con il tasto 1 della nostra tastiera e vado a ruotare l'intero piano quindi vado a modificare la vista della mia camera tenendo premuto posso fare tutta una serie di modifiche in maniera molto fluida e quindi posso decidere come voglio vedere il mio oggetto diciamo che io lo voglio vedere in questo modo quest'altro strumento è lo strumento pan si richiama col tasto 2 dalla nostra tastiera e quello che fa è che ci permette di spostarci di muovere la camera in alto in basso sul nostro piano quindi possiamo fare dei movimenti di camera per posizionare il nostro oggetto per esempio con la regola dei terzi quest'altro strumento ancora che si richiama col tasto 3 è lo strumento dolly come suggerisce il nome ci permette di fare un movimento dolly quindi avanti o indietro diciamo che io mi posiziono in questo modo e diciamo che voglio il mio oggetto al centro e diciamo che ci posizioniamo più o meno in questa maniera così lo vediamo bene ovviamente abbiamo uno strumento zoom e uno strumento mano che non sto a farvi vedere ora proprio come abbiamo visto prima noi possiamo andare a intervenire su questo oggetto come? possiamo andare a intervenire semplicemente con lo strumento bacchetta magica possiamo selezionarne un pezzo vediamo che abbiamo selezionato il corpo principale in questo momento avendo selezionato il corpo principale possiamo andare a dargli un materiale un materiale standard oppure una sostanza quindi io potrei per esempio dirgli che lo voglio fatto in questa maniera e a questo punto potrei andare poi a selezionare degli altri pezzi e tenendo premuto shift potrei selezionarli tutti quindi vado a prendere tutta questa parte superiore e gli vado a dire che lo voglio fatto di quest'altro materiale lo faccio strano apposta è semplicemente per farvelo vedere giusto per complicarci la vita a selezionare anche questi pezzi che sono molto complicati anzi no ho cambiato idea questi pezzettini qui sono gestiti tutti separatamente quindi ho cambiato idea non li vado a selezionare perché se li devo selezionare tutti tenendo premuto shift divento matto vedete che roba quindi ho cambiato idea non ve lo faccio vedere tanto avete capito selezionando un pezzo gli si applica un materiale selezionando un altro pezzo gli si applica un altro materiale adesso io sto scrollando con la rotella del mouse che nel mio caso è un magic mouse quindi non ha la rotella adesso andiamo a selezionare una luce io voglio selezionare questa per esempio e voglio andare a gestirla ruotandola ecco così mi piace dopodiché quello che voglio fare è che voglio andare ad applicargli un'immagine andiamo a vedere come se la cava con questa ok ecco qui il nostro oggetto ovviamente non è molto realistico appoggiato qui sopra quindi facciamo finta che lo sia ma noi sappiamo benissimo che non lo è potrei prendere lo strumento scala e rimpicciolire l'oggetto ma così non lo vedremo più quindi per amore della grafica e del fatto che probabilmente molti di voi lo staranno guardando su mobile lo teniamo grande così facciamo finta che sia una prop gigante messa in mezzo alla piazza ora a questo punto noi possiamo tornare a dirgli match image come abbiamo già visto lui ci pensa un attimo io gli vado a dire ok ed ecco che il nostro oggetto è collocato nello spazio io vado a premere il tasto r quindi lo strumento ruota e posso ruotare il mio oggetto sugli assi che ritengo più opportuni quindi posso posizionarlo per esempio in questo modo dopodiché posso andare di nuovo a recuperare lo strumento sposta ce li ricordiamo li abbiamo visti precedentemente e quindi posso spostare il mio oggetto e vedete l'ombra l'ombra che ovviamente è collegata al fatto che la fonte luminosa è in questa zona vedete l'ombra come segue il mio oggetto è veramente sorprendente cosa si può fare con questo applicativo ovviamente questo non è l'esempio più opportuno però vi dà una buona idea delle potenzialità perché io posso posizionare questo oggetto dove voglio e posso avere un'ombra assolutamente realistica in zero tempo e con zero fatica facciamo finta che questa roba sia quella che effettivamente volevate ora se vi ricordate noi avevamo salvato un view one vista uno al momento noi non stiamo più usando quel vista uno perché abbiamo fatto match image quindi abbiamo due viste differenti a questo punto che cosa succede? noi ormai abbiamo finito per cui vogliamo esportarla questa immagine per cui invece che in design andiamo nella tab di render ci troviamo nella tab di render e qui dobbiamo decidere come esportare il nostro file qui abbiamo la possibilità di scegliere intanto local o cloud io personalmente uso local perché mi salvo i progetti sul computer e poi li esporto su cloud ma prima li metto su un hard disk quindi questa è una questione di preferenze potete anche andare su cloud direttamente se avete la versione aggiornata e se avete la versione non craccata dell'applicativo possiamo scegliere di salvare la vista corrente quindi vista corrente significa questa quello che stiamo vedendo il posizionamento è dato dalla nostra camera nel senso che se io faccio uno spostamento se io mi sposto vedete che ho fatto una modifica ora nel momento in cui faccio una modifica io posso annullarla con questo tasto qui quindi annullo il movimento della camera e quindi ritorno alla posizione precedente io qui posso scegliere di esportare la vista corrente quindi quella corretta su cui abbiamo lavorato posso scegliere anche di esportare la view one quella che mi ero salvato inizialmente che a questo punto non va più tanto bene perché noi abbiamo fatto delle modifiche ci abbiamo ragionato sul posizionamento quindi quella da salvare è questa oppure posso direttamente salvarmele tutte ma diciamo che io voglio salvarmi soltanto questa ora posso scegliere come chiamare il file e quindi lo chiamerò export1 giusto perché è una prova qualità io ovviamente voglio una qualità alta il che significa che ci metterà un po' di più a renderizzarmelo ora per quanto riguarda i formati io posso scegliere di salvarlo in psd a 16 bit ho anche la possibilità di 32 bit ma ve lo sconsiglio non credo che a nessuno servano 32 bit oppure in png vi sconsiglio anche il png perché già che ci siamo esportiamolo in psd così possiamo lavorarlo ulteriormente andiamo a dirgli render vi ho risparmiato il minuto e 27 di attesa il render è terminato per cui io quello che vado a fare è che chiudo Adobe Dimensions io non lo salvo in questo caso ovviamente se fosse un progetto a cui teniamo lo salveremmo per ulteriori possibili modifiche quello che andiamo a fare adesso è che andiamo ad aprire il file che ne risulta che si chiama export1 perché l'ho nominato io così si chiama export1 current view perché ho esportato la vista corrente io lo vado ad aprire lo vado ad aprire senza modificarlo e vediamo che cosa ci ritroviamo ci ritroviamo sostanzialmente un'immagine con dei livelli su cui possiamo ancora intervenire perché qui abbiamo il nostro oggetto separato e la nostra immagine separata abbiamo un colore di sfondo che è bianco che possiamo anche eliminare in questo caso perché non ci serve quindi possiamo posizionare il nostro oggetto su uno sfondo perfettamente bianco oppure sulla nostra immagine e questa è l'immagine su cui abbiamo lavorato vedete questa è la vista al 100% la qualità è assolutamente ottima nel senso che è veramente ben fatto è più che fotografico è un render è un 3D quindi rende veramente bene e ha le caratteristiche pressoché di un vettoriale quindi lo possiamo fare grande quanto vogliamo e applicarlo su immagini delle dimensioni che più si addicono al nostro progetto qui abbiamo le informazioni le informazioni sulla profondità quindi questa è una depth map praticamente che potrebbe servire per fare una foto 3D come quelle che si utilizzano su Facebook qui abbiamo una serie di opzioni abbiamo una separazione tra gli oggetti e abbiamo una separazione tra i materiali quindi abbiamo tutta una serie di opzioni che io non userò perché sono qui sono a nostra disposizione ma non le utilizzerò perché quello che mi interessa è semplicemente avere a disposizione questi due livelli e su questi io adesso posso andare a intervenire per esempio andando a mettere un livello di regolazione agendo solamente sul mio soggetto quindi potrei per esempio schiarirlo un pochino perché potrei non essere contento di come l'ho renderizzato all'interno del software le luci non sono facilissime da gestire su Photoshop siamo tutti più familiari e quindi un ritocchino ulteriore ci sta che lo si faccia qui inoltre posso andare ad aggiungere una look up table per dargli un look più consono a quello che è il mio obiettivo finale quindi io posso passare da un'immagine iniziale un pochettino fredda posso scaldarla un pochino oppure posso sottrarre i blu drop blues e vado a rimuovere i blu così ho una scena in cui spicca tantissimo il giallo del mio soggetto posso fare tutto quello che sono abituato a fare in Photoshop lo posso ricreare all'interno di questo progetto dove ho il mio elemento renderizzato e la mia immagine di sfondo questo la possibilità di andare a integrare con Photoshop rende Adobe Dimensions un programmino veramente veramente interessante è anche possibile applicare delle etichette delle serigrafie sopra i nostri oggetti una cosa che andremo sicuramente a vedere nei prossimi episodi ma per il momento questo è tutto io vi saluto e vi lascio con una raccomandazione quella di lasciarmi un like se vi è interessato questo video e di seguire il mio canale perché così rimarrete aggiornati sulle prossime uscite e non vi perderete il prosieguo perché andrò a spiegare più nel dettaglio gli strumenti di Adobe Dimensions e come possono essere integrati per creare degli oggetti 3D anzi per gestire degli oggetti 3D perché come vi ho detto non vengono creati ma solo gestiti per gestire degli oggetti 3D che noi andiamo a posizionare all'interno di uno spazio bidimensionale quindi una foto possiamo andare a integrarlo con il nostro logo o una foto o un sacco di altre risorse di cui andremo a parlare di volta in volta ma per questo episodio è tutto signori per cui io vi lascio e vi do appuntamento al prossimo video e vi do appuntamento